A pochi chilometri da Abano, a Montegrotto, dove mi trovavo in soggiorno termale, segnalatomi dall'Alfai, il Fondo per l'Ambiente Italiano, si trova la Villa dei Vescovi, più precisamente in L'Uvidiano di Torredia. La Villa dei Vescovi è una raffinata villa d'inizio a Cinquecento, ispirata ai temi della classicità e domina la campagna dei Colli Euganei. Fu edificata per il soggiorno estivo della Curia Padovana, opera sublime di celebre architetti, quali Giulio Romano e decorata da pittore fiammingo, l'Ambert Sutri. Villa dei Vescovi è una sintesi della cultura umanistica in cui architettura e natura si fondono negli spazi delle sale interne, delle logge e delle terrazze, per educare e forse ispirare in qualche modo alla bellezza e al benessere. Fu costruita come una macchina per guardare il paesaggio, in anticipo sulle ville venete palladiane e spicca tra il verde di una campagna rimasta intatta. Merita davvero una visita ed il filmato, credo, almeno in parte, renda conto di questo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.